Mi ha dato forza e precisione, oggi si è bravo Gagliardini E che bravo Drongoschi qua Ogni tanto è criticato Drongoschi, io mi sorprendo perché ogni volta che lo vedo ogni tanto può essere magari un po' impreciso ma tira fuori delle parate Ma questa sera ha parato bene Palla ancora per lui che no anche ecco appunto L'ho bruciato subito Era sbagliato l'uscita